Offriamo, abbracciamo il messaggio della Madonna e la preghiera come lei ha chiesto per le sue intenzioni. Preghiamo per la pace, come lei ha chiesto, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Per favore vi chiediamo, spegnete le macchine fotografiche, spegnete i cellulari, prendete il rosario tra le mani, aprite il vostro cuore che possiamo davvero, come figli di Regina della Pace, abbracciare questo messaggio e questa grande richiesta che la Madonna ha chiesto da noi. Perché lei desidera che cominciamo a pregare come ieri ha chiesto per le sue intenzioni, che in realtà quando preghiamo per le intenzioni della Madonna è niente altro che pregare per noi, per le nostre intenzioni, per il mondo intero. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 All Per la sua dolorosa passione. 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 Per la sua dolorosa passione.